Alessandro III di Macedonia che sarebbe stato poi famoso in tutto il mondo con l'appellativo di Alessandro il Grande nacque una notte del 356 a.C. a Pella nel Palazzo Reale il bambino sicuramente fu affidato alle sue nutrici perché venisse lavato, profumato, fasciato e preparato per la vita, una vita straordinaria, una delle vite più avventurose che sia mai stato dato a un essere umano di vivere, appunto quella di Alessandro perché Alessandro divenne leggenda prestissimo e la sua leggenda era destinata poi a varcare i millenni quindi straordinario in gioventù, straordinario nell'età adulta doveva essere stato straordinario anche da bambino e quindi gli si attribuivano tutta una quantità di azioni e di comportamenti meravigliosi i suoi maestri pare che ben presto dichiarassero al padre Filippo di non avere più nulla da insegnarli perché il bambino era avido di conoscenza ed era brillante e intelligente si raccontano episodi anche della sua sensibilità per esempio si dice che una volta entrato in un santuario Alessandro avrebbe cominciato a gettare incenso nel bracere con grande prodigalità il maestro Neonido lo avrebbe ripreso userai con tanta abbondanza una sostanza tanto preziosa quando avrai conquistato i paesi che la produttano il bambino invece avrebbe risposto al suo maestro che non bisognava essere avari con gli dèi che bisognava invece essere generosi per poter poi ottenere il loro favore Alessandro quindi si prepara a vivere la sua vita nella gioventù di Alessandro però annuncia dubbio che fatto più importante è la sua formazione per questa il padre Filippo non vado a speso reclutò sul servizio la mente più brillante della sua epoca e cioè il filosofo Aristotele Aristotele lo seguì per quasi tre anni e sappiamo che alcune delle lezioni di Aristotele erano dette acroamatiche significava che erano per i principi soltanto cioè erano lezioni destinate a lui in esclusiva Aristotele avrà insegnato le scienze naturali lui era uno dei più grandi esperti dei più grandi conoscitori certamente gli insegnò le costituzioni delle principali città greche Aristotele faceva collezione di costituzioni perché ovviamente questo serviva per la formazione politica del suo allievo ecco forse Aristotele gli insegnò che la terra era rotonda per esempio Aristotele lo sapeva che la terra era rotonda e ne portava le prove diceva che l'ombra della terra sulla luna durante le eclissi è rotonda che quando le navi si allontanano dal porto prima scompare lo scafo e poi scompano gli alberi e quindi la terra deve essere curva e poi scompano gli alberi 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 e poi scompano gli alberi